Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuova. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco alla vittoria. Ci sono arrivate anche le formazioni, Luca, 3-5-2. È un modulo più equilibrato di quanto possa sembrare, a patto però di avere esterni dinamici. Una difesa solida di tre uomini è in grado di disinnescare la maggior parte degli attacchi avversari, anche grazie all'aiuto degli esterni. A situazione capovolta, i tre in mezzo possono subito riferire di pallone le punte, mentre i due laterali offrono un'ulteriore opzione per dare ampiezza al gioco pensiero. E dunque, calcio d'inizio. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Aaron Ramsey. È diventato un centrocampista davvero completo. Ha sempre dimostrato di avere grande tecnica, ultimamente però è diventato davvero devastante negli inserimenti palla al piede. Sono d'accordo. E immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa scala. Gabio. Divana. Grande movimento nello spazio. Diviazione di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Ha colpito bene, ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Arturo. Bonucci. Rabio. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Ottengono una rimessa laterale. La mette in profondità per il compagno. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ramsey. Arturo. Arturo. È arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Di bala. Rabio. Ha la peggio nello scontro di forza. Simi. Circa di servire il compagno in avanti. Occasione per il contropiede. Si libera la grande. Occhio al tiro. C'è arrivato lui. Si è messo sulla traiettoria quando sembrava col fatto. Eroico. È comorata. Di bala con una buona possibilità. E passa. Valcro. Incornata. Una buona iniziativa ma non è passata. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Fa avanzare le azioni con il lancio lungo. L'estremo difensore è la calcia lunga. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace ma credo dovrebbero variare un po' i loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali quando cerchi il gol disperatamente. Ma non puoi impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi. Per puntare gli avversari. Per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile. andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero Luca sono d'accordissimo con te. Bisogna cambiare qualcosa. Bel pallone. E attento e allontana senza problema. Per la distanza. Tiro del tutto fuori bersaglio. Il tiro non è stato un granché ma ha avuto il coraggio di provarci. Gravio. Quadrato. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Gioca con un pallone lungo. E spinge il tentativo dell'avversario. Recupera nel possesso del pallone. Scodella in avanti. Ibala. Grande prova di forza. Ci mette il fisico e conquesta il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Gamzee. Pallone lungo in verticale. Simi. Lungo passaggio in avanti. Prova a posizionare il gioco per la verticalizzazione. Arturo. Cristiano Ronaldo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Scatta verso il pallone. Va a concludere. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di un giorno. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli scogliatori. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui inizia la parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più francamente. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate. Ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza. E la situazione potrebbe cambiare. Si ferma qui la manovra. Palla in avanti verso il compagno. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Chance per tirare. Infuzza il portiere. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ripresa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Il trotone segna il gol che sblocca la gara. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Quadrato. Di bala. Accelera sulla destra. Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico della squadra. Se si abbassano troppo rischiano di far nuovamente rientrare in partita agli avversari. La difesa non sale Fabio, ho visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare dalla ciprofondo? Sicuramente non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. La rete che fa la differenza è stata segnata in avvio di ripresa. E così siamo evidentemente sull'1-0. Arturo. Opta per il lancio lungo. Non riesce a mantenere il possesso. Ramsey. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La Juventus. Sembra voler fare le cose con calma. Arturo. Cristiano Ronaldo. E' comorata. Calcio di punizione per la Juventus. Cristiano Ronaldo. Sceglie di battere contro. Perde il duello fisico con l'avversario. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questo. Colpisce il pallone. La palla fiscante ben piazzata. Meritava un esito migliore. Certo non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Rabiou. Qui può partire il contropiede. Lancia il compagno nello spazio. Bell'anticipo. Pericolo sventato. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Morata. Opportunità. La mette in avanti. Cerca lo spunto. Può provare. Hanno già reconquistato palla. Da lì può segnare. Cerca il dito. Grande risposta di Korda. E' una grande occasione fallita questa. Potevano pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Calcio in angolo battuto corto. Quadrado. Morata. Può calciare. Ecco il tiro. Palo. Occhio al traversone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti. Pur senza sbilanciarsi troppo. Simi. E sbaglia malamente il passaggio inguardabile. Quei peccato. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Quadrado. Ma Juventus non riesce a trovare Varchi nonostante il possesso prelungato. Di Bala. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Semi. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. Franzei. Paolo Di Bala. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Preferisce il retropassaggio. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Pallone in mezzo. E' arrivato il segnale di chiusura della gara da parte del margine. Uno sconto combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari. Ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile. Siamo ai saluti finali. Al commento tecnico.